quinta corsa premio bagno schiuma cavalli anziani al via sono in cinque dopo il ritiro del numero sei uno win back noel roberto vecchione due very good zs alessandro gocciadoro tre zaffiro trio marco stefani quattro noodles bf tommaso gambino 5 ulisse leo sandro miraglia andiamo arrivare un po lanciato big back noel americano di olga reller stacco della macchina veloce ulisse leo all'esterno va all'attacco di very good zs che però gli rientra vediamo se sandro miraglia ripiegherà in seconda posizione alla corda ci prova ma roberto vecchione sta provando a serrar sotto alla fine riesce la manovra e ulisse leo si sistema dietro a very good zs 14 6 primi 200 metri con in terza posizione per win back noel davanti a noodles bf mentre all'esterno marco stefani con zaffiro trio arriviamo al paletto dei 400 metri già in rallentamento 30 e mezzo 15 9 la frazione di là alessandro gocciadoro a condurre le operazioni col figlio di from a bow si porta presso zaffiro trio che lo accompagna poi ulisse leo davanti a 20 back noel e poi in coda nuls bf 600 in 46 e mezza ancora 16 la curva si va in mano con very good sempre affiancato da zaffiro trio un po' dente all'argo poi ulisse leo vecchiano el tanto 14 8 qui davanti ora si è decisamente accelerato con very good zs sempre a condurre le operazioni ulisse leo si riporta sotto all'esterno sempre zaffiro trio in un eroso percorso esterno poi lungo la corda win back noel e noodles bf chilometro in 1 15 9 14 6 la curva si va forte ora già da un po con very good zs che sta rispingendo con disinvoltura l'attacco portatogli da zaffiro trio che ora viene sollecitato ha spostato all'esterno roberto vecchione con win back noel mentre si mantiene lungo la corda ulisse leo siamo poco più di 200 metri dalla conclusione sposta in terza ruota win back noel very good percorre in 15 3 la curva ora siamo in retta d'arrivo con very good zs che allunga e si stacca e viene a vincere con disinvoltura mentre buona la prova di win back noel che coglie il secondo da un comunque valido zaffiro trio autore di percorso esterno 30 a chiudere 14 7 la retta d'arrivo 1 14 9 la media al chilometro per very good zs il figlio di from a bow e novella griff alessandro gocciadoro la guida il training la scuderia futura 2004 in percorso di testa da favorito vengono a vincere la quinta dall'arcoveggio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.